Un anno è passato sempre come se non è passato un anno, sempre come se li ho messi un mese fa, tutto c'è benissimo. Mi chiamo Ilaria, vengo dall'Italia, provincia di Bari. Un anno fa ho messo i denti fissi e ovviamente dovevo fare un controllo di routine. Mi sono trovata benissimo, un anno troppo bello, continuare a sorridere essendo che avevo perso il sorriso e facendo il controllo è tutto benissimo. Ho avuto un inizio di teoria e facendo la visita loro mi hanno consigliato che negli anni l'osso diventava debole e li perdivo. A questo punto ho dovuto fare degli imbiandi e mi sono trovata benissimo. Lo rifarie altre 100 volte. Una valutazione da 1 a 10-12. Come dendisti, come persone, come clinica, pulitissima, gentili, niente da dire. Mai preso un andidolorifico, niente, come se non avessi mai fatto niente. Ho già fatto raccomandazioni, ma non io personalmente, vedendomi proprio la gente. Che bel sorriso, che bel sorriso dove le hai sistemati i dendi, chi ti conosceva prima. Ovviamente io ho detto Grameen Clinic in Albania, precisamente Tirana. Loro stessi hanno contattato la clinica perché vedendo il mio sorriso, vedendo tutta la procedura, non mi sono lamentata di niente. È piaciuto a tutti. La gente per bene, ti ospita, anche se non sei albanese, sei italiana. Per loro ti trattano bene. Abbiamo visitato un sacco di posti, l'architettura bellissimo, i design dei negozi, bellissimo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.